Ciao bambini, ve la ricordate questa canzoncina? Ascoltatela. Andò al mercato il pollice e comperò una mela, allora dice l'indice, adesso chi la pela? Il medio è l'anulare, io no, io no, io no. Il mignolo piccino, gnam gnam, se la mangiò. E adesso cantatene una anche voi, ne avete imparate tante a scuola. Ne vogliamo ascoltare, forza! Ciao! E non cucina. Gli lavo la polenta e blu come la penta, blu come la penta. Panni con le ghette, te la vorrei a mettere a mettere, a mettere le levo all'olette in vestiglia. A per la pomeriggia, te la guardate a fuori da mare, e con lì la pimpurare, gira con le pote amare. Mancate! Chi è che ti mancano? Tutte! Tutte le maestre? Sì, Anna, Laura e Eleonora. Anna, Laura e Eleonora. Fai ciao con la manina? Dai un bacino? Ciao, ciao maestre! Volo, tanto bene! Grazie a tutti! Grazie a tutti.